Noi siamo qui per progettare subito da domani la ricostruzione, meglio ancora di quello che era prima. Cosa avete provato Stratio? Solo amarezza e basta perché probabilmente può capitare. Siccome io non ho nemici non credo che sia un fatto doloso ma per me che poi saranno i periti a giudicare secondo me sarà stato un non lo so se l'impianto elettrico, quello che è potuto capitare. Insomma non ve l'aspettavate però se si dovesse confermare che è stato un episodio doloso? Stringo le spalle e divento ancora più forte per rifare nuovamente il locale. Oggi avete avuto tanta solidarietà dei cittadini, è venuta l'amministrazione comunale e vi hanno promesso un sostegno? Sì sicuramente, mi sono vicini, li ringrazio dal sindico a tutti gli amici del comune, del comando dei carabinieri, i vigili del fuoco sono stati molto bravi. Niente di altro, adesso in questo momento non so dire altro.